A Palazzo Lascaris è stato presentato un libro sulla storia del più grande partito della sinistra italiana, Napolitano, Berlinguer e la Luna, la sinistra riformista tra comunismo e Renzi. Il volume di Umberto Ranieri illustra la vicenda politica che dal PC degli anni 70, attraverso successive e anche travagliate trasformazioni, porterà al PD di governo dell'attuale presidente del Consiglio, Matteo Renzi, passando attraverso il secondo settennato del presidente Giorgio Napolitano.